ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale cantare in libertà questo come sappiamo ormai è lo spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte oggi vediamo un pezzo bellissimo di John Lennon che è Imagine la prima parte di questa canzone si compone di due accordi che sono Do maggiore che sappiamo se questi sono i due tasti neri qui c'è il Do sappiamo comporsi di Do Mi Sol suonato insieme quindi e Fa maggiore che sarebbe se questo è Do Re Mi Fa quindi Fa La Do con poi il Fa maggiore e quindi si alternano it's easy if you try per tutta la prima parte e suoneremo quattro volte il Do e quattro volte il Fa maggiore alternando così poi arriva il ritornello e gli accordi sono ancora Fa maggiore poi La minore quindi se questo è Fa andando avanti Sol La La Do Mi La minore poi c'è il Re minore quindi Re Fa La e infine Sol maggiore quindi Do Re Mi Fa Sol Sol Si Re quindi Imagine in all the people living for today e si ritorna alla sofa come avete notato suonato due volte il Fa due volte il La minore poi quattro volte il Re minore poi il Sol poi il Sol tante volte finché non si ritorna al Do maggiore dell'inizio subito dopo c'è una parte C che è composta sempre di quattro accordi che sono Fa maggiore You must say I'm a dreamer quindi Fa maggiore Sol maggiore ancora una volta che abbiamo già visto Do maggiore è un accordo nuovo per questa canzone che è il Mi maggiore quindi Do Re Mi Mi Sol diesis Si quindi sarà così You must say I'm a dreamer Mi maggiore But I'm not the only one sempre con due battute per ogni accordo e poi si ritorna sempre nella strofa ad alternare il Do e il Fa Bene, come avete visto è molto semplice da suonare questa canzone io vi lascio come sempre in descrizione un link dove andare a prendere il testo con gli accordi e inoltre la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra e alcuni link che riguardano gli accordi come imparare a suonare gli accordi al pianoforte almeno gli accordi di base e noi ci vediamo alla prossima grazie grazie